E proprio per agevolare l'effettuazione dei tamponi per chi rientra dalle zone a rischio, la ASL di Bari ha attivato una piattaforma web in cui è possibile prenotare il test. Dal momento dell'attivazione a oggi sono quasi 900 le richieste ricevute e il servizio. Una piattaforma web sperimentale per prenotare il tampone per chi arriva o rientra a Bari in modo più semplice e veloce. E' quanto disposto dall'ASL di Bari per consentire a chiunque provenga da paesi come Malta, Spagna, Grecia e Croazia di eseguire il test. Subito dopo aver autosegnalato il rientro, soggiorno a Bari e provincia sul portale Puglia Salute e trascorse 72 ore previste, sarà possibile decidere dove e quando effettuare il tampone. Se l'essito risulta negativo si potrà interrompere la quarantena obbligatoria di due settimane. Per prenotarsi sono necessari quattro semplici passaggi. Compilare il modulo di autosegnalazione sul portale della Regione, inviare via e-mail il documento generato in PDF al proprio medico curante per i residenti, oppure al Dipartimento di Prevenzione, caricare il PDF generato sull'apposita piattaforma per prenotare il tampone ed infine scegliere secondo le proprie esigenze, il giorno, la fascia oraria mattutino-pomeridiana e la sede. Una nuova piattaforma allestita dall'Unità Operativa Sistemi Informativi che rappresenta per la ASLA Bari uno strumento utile alla gestione degli afflussi di rientro e arrivo registrati, con l'obiettivo di estensione all'intero territorio regionale.